Sono io William Wallace e ho dinanzi agli occhi un intero esercito di miei compatrioti decisi a sfidare la tirannia. Siete venuti a combattere da uomini liberi e uomini liberi siete. Senza libertà cosa farete? Combatterete? No, non combatterò! Contro quelli? No! Fuggiremo e resteremo vivi. Certo, chi combatte può morire. Chi fugge resta vivo, almeno per un po'. Agonizzanti in un letto, fra molti anni da adesso siete sicuri che non sognerete di barattare tutti i giorni che avrete vissuto a partire da oggi per avere l'occasione, solo un'altra occasione di tornare qui sul campo ad urnare i nostri nemici che possono toglierci la vita ma non ci toglieranno mai la libertà! Chioli, chiopi! Ui pa! Quando la! ase Siete venuti a tutti i giorni per la vita Erbam Il Per la vita Per�ast Erbam Il Grazie a tutti.